Lettura, Vangelo, e Commento Dal libro del Deuteronomio Mosè parlò al popolo, e disse. Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l'anima. Tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che Egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come Egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le nazioni che ha fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come Egli ha promesso. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore Lode a Teo Cristo Commento Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciao a tutti e ben ritrovati di nuovo qui per cercare di approfondire quello che è il Vangelo e chiediamo al nostro Padre che ci illumini la mente e il cuore per approfondire quelle verità nascoste che spesso nel Vangelo ci sfuggono. Ed oggi il Vangelo ci esorta a quell'amore più perfetto, ci esorta ad amare e volere bene all'altro e su questo si basa la nostra relazione personale. Noi, diciamo così, amiamo per cercare il nostro bene, ma Dio ci dice che noi esistiamo per un amore che è rivolto alla persona amata e così facendo cresciamo proprio noi come persone. L'essere umano, affermò così il Concilio Vaticano II, non può trovare la sua pienezza se non nella donazione sincera di se stesso agli altri. A questo si riferiva anche Santa Teresa del Bambin Gesù quando diceva di fare della nostra vita un olocausto d'amore. Così anche San Giovanni Paolo II scriveva «L'uomo non può vivere senza l'amore. Egli resta per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli si rivela l'amore, se quest'uomo non incontra l'amore, se non lo sperimenta e lo assimila e se non partecipa vivamente in esso. L'amore quindi ha il suo fondamento e la sua pienezza nel nostro Dio, in Cristo Gesù. La persona è invitata quindi con la preghiera ad avere un dialogo profondo con Dio. Uno esiste fondamentalmente per questo amore di Dio che ci creò con questo amore e per questo amore oggi ci conserva. Questa è la ragione più alta della dignità umana. L'amore umano deve perciò essere custodito da questo amore divino che ne è la fonte. Esso trova un modello che porta l'uomo alla sua pienezza, ad un vivere quotidianamente felice la propria vita. Per tutto questo l'amore è amore quando è veramente umano ma con un cuore di Dio. Ecco dove l'uomo assomiglia a Dio nel modo di amare e questo cuore di Dio è in grado di abbracciare i nemici. Se non è così non ama veramente. conseguentemente l'esistenza del dono sincero di sé diventa davvero un comando divino dove il Signore ci dice voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre nostro celeste. Amare i nostri nemici quelli che ci perseguitano e ci fanno soffrire è difficile e a dire il vero non è neanche un buon affare perché ci impoverisce. Eppure questa è la via indicata e percorsa da Gesù per la nostra salvezza. Cristo è morto per amore di noi quando ancora eravamo nemici. Il Signore ci chiede semplicemente di imitarlo amando coloro che sono vicini a noi e che purtroppo sono lontani da noi. Amare i bambini e i poveri come lui li ha amati. Grazie di avermi seguito fin qui un abbraccio forte a tutti voi che Dio vi benedica e ci vediamo presto. Se questo video ti è stato utile con poco puoi sostenere questo canale scopri come nella descrizione e ricorda che insieme possiamo diffondere fede e speranza. Con gratitudine Daniele